Anna Wadei, 25 anni e blogger di mestiere, conosce Andy Bell, ragazzo di 27 anni, su Tinder, la famosa applicazione che consente l'incontro casuale. E ha scoperto che l'uomo dei suoi sogni è proprio lui, ma la storia però d'amore nasconde un dramma. Ci troviamo a Durham, nel Regno Unito, Anna è malata infatti di cancro al cervello, nel giro di un uomo di tempo, dal primo incontro, Andy ha il suo capesale dopo un'operazione alla testa e sta accanto nel periodo successivo alla chemioterapia. La coppia è innamorata e anche se la donna resta una pochissimi giorni di vita, quindi pochi giorni ancora da vivere, le chiede di sposarla per la voce. I due avrebbero dovuto pronunciare il sì, il fatto di così il 17 settembre, ma le condizioni di Anna sono peggiorate all'improvviso ed è morte il giorno prima. Ma su Facebook il dovere di vendita e la sua famiglia è stato parese, nonché elevato, nonché terribilmente forte. Grazie, grazie di vivo cuore per l'ascolto. Tragica fatalità quella che si è verificata tra questa coppia di fidanzati che si è conosciuta a livello su Tinder e una applicazione di incontro casuare. Iscrivetevi, commentate e un caro saluto.